In questa pillola il professore Antonello Giarratano discute del trattamento del dolore nel paziente critico. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa pillola sul trattamento del dolore in ambito di quello che è il percorso PAD che è stato sviluppato da Siarti e coordinato da Giorgio Conti. Prima diapositiva, 2010, anno della svolta, si passa dalla sedo analgesia all'anargosedazione, quindi si preferisce in area critica utilizzare percorsi, procedure e protocolli che siano basati sull'utilizzo degli opioidi, in questo caso il remifentanil. E in effetti il 2013 su Critical Care segnalano in qualche modo della codifica di questo concetto, l'analgesia deve precedere in un percorso sedativo in area critica e il percorso sedativo in area critica deve essere preceduto dalla somministrazione di farmaci analgesici e in qualche modo gli opioidoendovenosi rappresentano la prima linea. Accanto a questo percorso del 2013, in questi anni si sviluppa anche un'altra molecola che rivela da subito la sua, diciamo, importanza, la DEX. La DEX non è solo un sedativo che mima il sonno non reme, quindi il sonno più fisiologico, mediante il meccanismo classico dell'iperpolarizzazione del locus feruleo, ma è anche, lo vedete in basso in questa diapositiva, un farmaco che sviluppa in qualche modo proprietà analgesiche. Proprietà analgesiche che, diciamo, si sviluppano attraverso il blocco presinaptico del rilascio di norepinefine a livello dei neuroni medullari. Quindi abbiamo per la prima volta un farmaco che non è un opioide, che non è un sedativo, ma che sviluppa dei meccanismi di azione e degli effetti che sono su ambedue i fronti, quello sedativo e quello analgesico. Lo studio di Cache, dove Giorgio Conti, appunto che dicevo, è il nostro coordinatore, è una review che rappresenta nel 2016, per certi versi, un pilastro fondamentale di quelli che sono ormai da considerare i percorsi e i protocolli da applicare di analgo sedazione in area critica, considera in questa tabella e sviluppa in questa tabella quattro grandi classi o tipologie di dolore. Tipologie di dolore che chi lavora in terapia intensiva sa benissimo, sono delle tipologie di dolore che molto spesso si trovano associate nello stesso paziente tra di loro. Basti pensare al fatto che, al punto numero uno, citiamo il dolore che è il dolore neuropatico che può essere preesistente alla condizione che ha portato il paziente in area critica, un dolore neuropatico che viene classicamente trattato con gabapenti nella vitriptilina in aggiunta al percorso di analgo sedazione che ora vedremo e accanto a questo ci possono essere condizioni preesistenti come le sindrome di astinenza che richiedono la somministrazione del metadone per poter controllare un dolore che altrimenti con i classici protocolli sarebbe difficilmente valutabile e controllabile. Accanto a questo abbiamo le formule più intuitive classiche del politrauma, della chirurgia, sono delle condizioni che di fatto impongono la somministrazione di farmaci analgesici con una finalità correlata a quelle che sono le procedure che hanno portato e le condizioni che hanno portato il nostro paziente in area critica. È ovvio che in questa situazione ci sono anche e sia anche lo sviluppo di condizioni infiammatorie che richiedono la somministrazione di farmaci che accanto alla ketamina, basso i dosaggi e la DEX hanno praticamente delle funzioni antinfiammatorie, basti pensare al paracetamolo o ad altre sostanze. In questa tipologia di pazienti e in queste condizioni la DEX svolge anche la funzione che vedete riportata nella colonna centrale del risparmio degli opioidi, proprio perché il suo meccanismo d'azione che poco fa ha citato ci permette in qualche modo di basarci e basare il nostro protocollo di analgosedazione sugli analgesici e sugli opioidi, ma utilizzando la DEX anche per gli effetti sedativi gli opioidi possono essere risparmiati determinando una riduzione degli effetti secondari che tutti conosciamo degli opioidi e che soprattutto nei nostri pazienti stabili emodinamicamente con problemi respiratori possono avere una significativa valenza e incidenza sulla loro prognosi. Al terzo posto di queste grandi classi di dolore abbiamo quello che è il dolore cosiddetto globale della terapia intensiva, quindi l'intubazione, endotracheale, l'entilazione meccanica, alcune procedure di fisioterapia. Sono tutte condizioni che sono dovute a procedure necessarie in area critica e in terapia intensiva, ma sono procedure che di per sé si presentano come sofferenza dolorosa da parte del paziente. A questo punto la ketamina bacilosagi, la DEX e il remifentanil sicuramente sono i farmaci che noi utilizziamo in associazione, sempre con le finalità di raggiungere il migliore equilibrio evitando gli effetti secondari, in particolar modo degli opioidi. Terzo, quarto punto, ultimo punto è il dolore procedurale intermittente, il dolore c'è che si determina quando andiamo per esempio a posizionare un drenaggio, quando andiamo a fare una tracheotomia. In questi casi gli opioidi in bolo, il classico fentanyl 50-100 microgrammi o procedure di anestesia locale o procedure di analgo sedazione correlate a quello che può essere contestualmente un'infiltrazione con anestetici locali diventano di fondamentale importanza per ridurre l'impatto che queste procedure hanno sul nostro paziente che presenta una condizione di criticità e di comorbidità indipendente dalla situazione dolorosa. Con questo credo molto sinteticamente di aver fornito degli spunti che sicuramente serviranno a voi per poter approfondire le tematiche anche in termini di letteratura e concludo affermando quello che è un po' il motto della nostra società scientifica che di fatto si concentra proprio sul fatto che noi puntiamo sempre a salvaguardare, a promuovere la vita e a combattere il dolore. Grazie ancora.